Ciao amici bentornati sul mio canale in cucina con rosaria. Oggi voglio fare una torta fit, voglio pensare anche a coloro che per necessità o perché vogliono rimettersi in forma devono seguire una dieta e hanno la possibilità di mangiare un dolce anche loro per non essere penalizzati. Voglio fare un plum cake ai frutti rossi, potete utilizzarli sia congelati che freschi. L'impasto è molto colorato, il colore che piace a me insomma perché va sul rosa, sul lilla, sul viola, insomma quei colori tenui. E' molto molto facile e vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina per non perdere tutte le altre ricette fit e non solo che farò in seguito. Andiamo a fare plum cake ai frutti di bosco, torta fit insieme. In questa ciotola vedete 200 g di frutti rossi freschi o congelati, un cucchiaio di marmellata light sempre frutti rossi, 120 g di farina integrale, 3 cucchiaie di olio di semi di girasole, 200 ml di albuni, 6 g di lievito in polvere, 100 g di yogurt greco e 20 g di scaglie e cioccolato fondente. Mettiamo i frutti di bosco in un mixer e andiamo a tritarli abbastanza finemente. Subito dopo aggiungo la marmellata e continuo a frullare. Verso il tutto in una ciotola di vetro, aggiungo piano piano anche gli albumi, l'olio, lo yogurt greco e inizio a mescolare lentamente. Nel frattempo vedete il colore di ventaviola e poi leggermente gliela. Aggiungo un po' alla volta la farina di avena integrale, qui se volete potete farla anche con la farina di grano saraceno, potete decidere tranquillamente. e per ultimo aggiungo le scaglie di cioccolato fondente. Finisco di impastare, intanto prendo uno stampo da pancake foderato con la carta forno e vado a versare all'interno il mio composto. Per abbellire il tutto posso aggiungere qualche mirtillo fresco sopra. Intanto accendo il forno a 180 gradi, forno statico preriscaldato e inforniamo per 60 minuti circa. Mi raccomando fate sempre la prova a stecchino perché dipende sempre dal vostro forno. Lo sforniamo, lo lasciamo raffreddare e guardate come si presenta il nostro plum cake. Con l'approvatario è sofficissima, ha un profumo indescrivibile, mi raccomando provatela. Se vi è piaciuta lasciate un commento sotto al video.